Che bella che sei! Allora Ludina è entrata oggi in sala trucco, accolta dalle ola di tutti i truccatori, i parrucchieri Ludina come stai, come lo stai, chiacchierava con l'ombretta e hai detto quanti anni hai? Ottanta, quasi ottantuno Ma che Dio ti benedica! Si accomodi signora! Il copione non è che all'inizio è ancora tutto da vivere? È così Quanto te ne sei accorta? L'hai sempre saputo? Sempre saputo Ma che bello con questo capello, questo... Grazie Senti, perché hai deciso di scrivere questo romanzo dove la protagonista si cambia addirittura il nome, diventa Sandy? Sì, perché la chiamano Alessandra ma lo trova un po' pomposo, quindi si chiama Sandy Io ho deciso di scrivere questo romanzo perché molti romanzi parlano di persone che hanno 30 anni, 40 anni E non è più grande, non grandi come me, ma insomma lei ha 68 anni Sandy e non è vecchia E c'è ancora tutta la vita davanti e la trattano come una che... la tratterebbero come una... ma lei non si fa trattare niente, però insomma di una terza età Ma quale terza età? Allora, ha deciso di vivere la sua libertà Decidendo lei e non facendosi più scegliere da nulla Né dagli uomini, né dal lavoro, né dagli altri, né dagli amici fasuli E anche dai figli? C'ha due figli, uno che sta a Berlino fa l'architetto Felice, tranquilli, risolti E l'altro che lavora alla comunità europea, che è sposato con una ragazza italiana E quindi ha cresciuto i figli, il marito l'ha perso di vista, se n'è andato con una giovane fanciulla Tant'è vero che quando il secondo figlio si sposa non sanno neanche dove mandare, dove dire al padre che il figlio si sposa Queste famiglie tradizionali fanno tanti pasticci ogni tanto E' completamente scomparso E lei, la sua libertà, badate bene, non è essere sciolti e fare quello che ti pare Ma certo La libertà richiede rigore Il rigore nell'esercizio della libertà Nell'esercizio della libertà Senti, ma quante Sandy hai conosciuto e sei stata anche te un po' Sandy? Perché poi Sandy nel frattempo si innamora, ma non di uno Ce ne sono tre, mi sembra, in libro Adesso non svegliamo tutto Lei è una ex bella donna, rimasta bella donna Ludina, sia belle a qualunque età Cioè una persona bella, è bella sempre Esatto E la bellezza la leggiamo negli occhi, non nella forma, al fisico, ai chili E lei rifiuta qualsiasi intervento, non ne vuol sapere Ama le sue rughe perché lei dice che ogni ruga è un pezzo di vita Senti, ma no, dicevo, sei stata un po' Sandy anche tu e quante Sandy hai conosciuto? E quanto sei corteggiata ancora? Beh, insomma, succede Quante volte, cara? Ma insomma, io ho un compagno che è un uomo meraviglioso da oramai sette anni E quindi lo hai incontrato sette anni, lo hai incontrato a più di settant'anni Io più di settanta, adesso io ne ho quasi ottantuno, lui ne ho ottantasei Ok Quindi siamo due giovanotti, ma non sai quanto ci divertiamo Ma non ho dubbi E quanto ridiamo, e quanto scherziamo Senti, è un altro argomento che è sempre un grande tabù è la sessualità Nella cosiddetta, ripeto, terza età Tu che cosa ne pensi? Ma la sessualità esiste sempre Non la puoi spegnere, veramente E non c'è l'imbarazzo dei corpi Cosa che dicono appunto gente che non capisce nulla Ma non è vero, tanto A questa età la sessualità si accompagna anche, diciamo, a una certa... All'amore anche E meno male, non dovrebbe essere in fondo, dovrebbe essere sempre un po' così Dovrebbe essere sempre così Ma le donne, poverette, sono oggetti del desiderio maschile Molto spesso E c'è una fascia d'età dove il corteggiamento viene abolito Perché tanto la sappiamo tutti E per cui gli uomini, l'unica cosa che vogliono è il sesso E quindi la donna ha questo ruolo di oggetto Oggettivizzata, sì E io questo lo detesto E l'ho sempre detestato e gli ho sempre mandati a quel paese Ah, brava Gli ho sempre fatti correre Per allontanarsi però Ma se si corre, non come lontano da me Però la cosa meravigliosa appunto è che questo brivido di emozione che è la vita Esatto Si regala in qualunque momento Sì Ma devi avere il coraggio di viverla la tua vita Come lo trovi? Ce l'hai dentro E se non ce l'hai dentro come lo recuperi? Parliamo a una Sandy che non sa di essere Sandy che ci sta ascoltando E beh, se non sa di essere Sandy, tesoro mio, io non so che farci Il problema vero è che ognuno di noi ha dentro di sé una Sandy Esatto E basta che la lascia vivere Che ha il coraggio di lasciarla vivere E la curiosità della vita è quello che ti tiene sveglia, allegra Devi prendere la vita per oggi Oggi che ti dà la vita? Oggi mi dà te E a me ha regalato te Grazie Ludina Barzini Liberi di volare Ci vediamo domani Ultima puntata Alle contattici Grazie Serena